Salve a tutti, Domenico Giordano da Giordano Brokerage Est. Anche quest'anno, come ormai tradizione, saremo presenti alla TuttoFood dall'8 all'11 maggio a Milano. Noi offriamo servizi di consulenza che permettono di agevolare e accelerare il vostro ingresso nel mercato russo. Informazioni più dettagliate sui nostri servizi li trovate nel video che è linkato sotto il presente video. Iscriveteci, fissateci un appuntamento, saremo ben lieti di passarvi a trovare e di avviare una collaborazione con voi. Arrivederci!